Andiamo quindi a vedere un'altra condizione dove l'aumento osseo verticale è decisamente più importante rispetto a quello che abbiamo visto poc'anzi e dove possiamo anche in questo caso avere o meno l'associazione con il rialzo di seno mascellare. Il tutto però viene fatto con la tecnica di Curi ed in particolare con la tecnica del tunnel che è una tecnica molto particolare che nasce appunto dalla scuola del professor Curi e che sfrutta la possibilità di eseguire tutto l'innesto con un'unica incisione che viene fatta verticalmente sull'aspetto mesiale al difetto e che permette di ottenere una continuità tessutale anche durante la chirurgia per ridurre tantissimo quello che è il rischio di deescenza nella fase di guarigione dei lembi. Questo è ovviamente possibile e trova una sua applicazione massima quando la base del difetto è larga e lo capiremo a breve guardando e analizzando i casi clinici perché quando la base è larga la tecnica di Curi con la lamina posta a definire la nuova dimensione occlusale dell'innesto cioè tra il picco osseo mesiale e quello distale questa lamina viene posta e dà stabilità primaria al materiale sottostante solo se la base è effettivamente larga. Se invece abbiamo anche un piano di clivaggio perché esiste un difetto di tipo orizzontale associato questo tipo di soluzione è meno vantaggiosa.